Lo stabilimento dolciario della Pernigotti è a serio rischio chiusura dopo 158 anni. Il gruppo turco Toksots, dal 2013 proprietario della storica azienda, ha infatti annunciato la decisione di chiudere lo stabilimento. La regione è già in campo nella battaglia per salvare la Pernigotti di Novi Ligure. È stata questa la rassicurazione, giunta direttamente dal presidente Sergio Chiamparino, rivolta alle organizzazioni sindacali ricevute in consiglio regionale. Tre ordini del giorno sul tema, a firma di Gianluca Vignale, Movimento Nazionale per la Sovranità, Domenico Ravetti, PD, e Valtero Tria, Liberi e Uguali. Noi intendiamo una cosa semplicissima, evitare che per un'altra volta, per l'ennesima volta, un prodotto di eccellenza italiano, in questo caso novese, locale, piemontese, venga cannabilizzato da certi imprenditori che appunto non tutelano la qualità intanto e fanno questa operazione diciamo in sfregio, uno ai lavoratori e due appunto alle eccellenze italiane. Ovviamente siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento di Novi, mi sembra che le questioni sul tavolo siano molte, la questione sia molto articolata. Credo che la cosa principale sia quella di modificare la causale della cassa integrazione trasformandola in cassa integrazione per riorganizzazione aziendale che potrebbe aprire dei scenari futuri, mentre oggi la cassa integrazione ha la causale di cessazione. Ormai abbiamo individuato l'unica strada che può salvare lo stabilimento di Novi Ligure e quindi destino di 100 persone fisse più 150 terrenali, cioè arrivare ad una cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, per situazione industriale complessa, si chiama così, al posto della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.